Iniziamo da giovedì 15 dove ci sarà una premiazione dei ragazzi meritevoli sia a scuola che nello sport. Poi ci sarà la presentazione della K-Sport di Montecchio, la nostra squadra qua locale che gioca penso eccellenza. E poi dopo ci sarà musica come tutte le sere, tutte le sere c'è sempre musica dal vivo. E poi in quella serata ci saranno anche degli spettacoli che faranno dei ragazzi che partecipano in questo concorso dove vengono premiati. Invece venerdì 16 la dedicheremo tutta ai balli latini, ci saranno più scuole, ci saranno sempre degli spettacoli. E' una sorpresa anche per noi perché noi abbiamo contattato le scuole e loro si hanno dato la disponibilità di fare queste iniziative. Sabato 17 abbiamo Fabrizio dall'Accademia e lì la gente si divertirà da matti perché è un complesso conosciuto. Domenica c'è la novità del pranzo, cioè su prenotazione faremo un pranzo proprio completo, di pasto al dolce. Di solito ha avuto successo anche questo, pensiamo che sui 100-120 persone dovrebbero venire, quindi anche qui dovrebbe andare bene. Speriamo sempre nel tempo buono. Poi niente, dopo il pranzo alle 19, come al solito alle 7 del pomeriggio, 19, riapriamo i nostri stand gastronomici, ripartiamo con la polenta, con la piadina, con l'arrosto, con tutto quello che facciamo noi. E naturalmente, musica a sazietà, con la terza idea, un complesso, la terza idea si chiama, se sempre dal vivo la musica. E fino a che la gente non è stanca di ballare, li facciamo proprio ballare, li facciamo proprio divertire, perché dopo due anni, come dicevamo prima, di pandemia, la gente ha voglia di muoversi. Sarà un quattro giorno importante, perché è chiaro che Montecchio, la piazza della Repubblica, è il centro di una vallata di quasi 180.000 abitanti, quindi da Pesone, tutti i comuni, l'area interna, e poi sarà un momento anche di aggregazione, un momento di musica e anche un momento di enogastronomia. Questa polenta è squisita, ci sono tanti altri prodotti nelle quattro serate, speriamo anche che ci sia il tempo bello e che possa venire tanta tanta gente.